Non ha fatto resistenza Nicola Schiavone e ai poliziotti che gli mettevano le manette ha detto siete troppo forti. E' finita all'alba in questa villa bunker di Casal di Principe la latitanza del primo dei sette figli di Francesco Schiavone, meglio conosciuto come Sandokan e il padrino di Gomorra, capo storico del clan de Casalesi e in carcere da anni con il regime di 41 bis. Insieme a lui c'erano altre due persone. 32 anni con la passione della pittura come il padre Nicola Schiavone è considerato il reggente della fazione della Cosca e accusato di essere il mandante del triplice omicidio di Francesco Buonanno, Modestino Minutolo e Giovanni Battista Papa, tre affiliati al clan uccisi per uno sgarro che per la camorra equivale ad una sentenza a morte. I tre che operavano nel settore delle estorsioni volevano staccarsi dagli Schiavone per aderire al gruppo di Francesco Bidognetti. Al figlio di Sandokan non sono bastati un rivelatore di spie e un impianto di sorveglianza esterno sofisticatissimi con i quali aveva protetto il suo rifugio atelier pieno zeppo dei suoi quadri. Nicola Schiavone, incensurato, era poco conosciuto alle cronache e si era reso irreperibile dal giugno scorso.